Il servizio delle motocarrozzette, quanto è importante per la città di Palermo? Io lo ritengo importantissimo sotto l'aspetto turistico e rale, perché è un servizio che viene offerto ai turisti per visitare i monumenti più importanti di Palermo e dà l'opportunità di vedere il meglio e con una differenza che la motocarrozzetta ha la possibilità di entrare in posti stretti, in posti dove gli altri mezzi turistici non possono entrare e quindi dà la possibilità al turista di vedere il meglio di Palermo, anche le parti dei mercati come Ballarò e altri vicini o dei posti dove l'impossibilità del mezzo grande non permette di visitare nel centro storico di Palermo come le zone di viaggio. A chi lamenta di comportamenti poco consoni da parte di alcune di queste motocarrozzette, lei cosa risponde? Io dico che c'è un numero di targa, esiste anche un'altra cosa importante che è l'autorizzazione con Cezza al Comune di Palermo, basta prendere i nomi, basta prendere i numeri e riferirli nello specifico al confartigianato che azioni disciplinari saranno prese a proposito di queste.